Grazie Presidente. Ministro, lei ha una grande pazienza, io la invidio e tra l'altro anche un grande senso del dovere delle istituzioni. Non credo che sia difficile, che sia stato difficile da casa farsi, per coloro che ci seguono, un'opinione di quello che è avvenuto. La senatrice Bonino ha concluso l'intervento dicendo che bisogna far riconquistare il senso dei cittadini verso la fiducia nella giustizia. Io aggiungerei che questo senso si recupera non dicendo balle, non strumentalizzando quello che è avvenuto e non cercando di contravvenire a una regola fondamentale, credo che valga anche in politica, che quando si ha la forza e il coraggio di dire certe cose bisogna avere l'onestà alle spalle per poterla dire, perché così non è avvenuto. E mi spiego. Potrei dire quasi confidenzialmente, Ministro, quello che lei non ha potuto dire lo posso dire io, perché è quello che penso, perché bisogna essere chiari, bisogna essere chiari ed equi rispetto alla storia di quello che è avvenuto e di quello che è stato. La senatrice Bonino ha citato una trattativa, la trattativa sono state riproposte tutte quante, il dialogo tra Di Matteo e Bonafede credo che abbia avuto esegesi che vanno forse al quarto lemma del vocabolario per cercare di trovare una collocazione all'interpretazione che si volevano dare. È avvenuto di tutto. In base a una trasmissione televisiva, una telefonata, si è ricostruito tutto quello che si è voluto vedere dentro questa cosa, ma le illazioni, ha ragione il Ministro, questo di contingenza e soprattutto di interferenza della mafia, questo non si può accettare, perché questa non è un'offesa a un Ministro, è un'offesa a un intero Paese che il Ministro rappresenta. Ebbene, io penso, è stato evocato di tutto, il senatore Paragono addirittura il diavolo ha evocato in quest'Aula, dicendo, non so, Capitano America, ha parlato di tutto ma non del contesto, non del merito, ovvero che la storia e le posizioni che qui stanno ben rappresentate sono diverse. Diceva bene Renzi, noi non siamo come voi rispetto a queste questioni e lo abbiamo sempre dimostrato, per cui queste emozioni vanno lette esattamente al contrario di quello che viene detto. La sfiducia non è per quello che è stato fatto sullo spazio corrotti, per aver impedito la violenza e messo sanzioni molto pesanti per la violenza sulle donne, il DASPO a vita per i corrotti, la pubblica amministrazione, vanno lette proprio perché abbiamo fatto queste cose e chi lo dice è chi nella storia di questo Paese le ha agevolate dal punto di vista normativo e non ha fatto nulla per tenere freno. Mi fa piacere che si parli della trattativa, ma credo che sia poco accorto parlare della trattativa, perché a me il termine trattativa mi fa ricordare la trattativa Stato-mafia, che è avvenuta durante i governi di Lega e Forza Italia. Questi sono i governi. Quando si voleva abolire il 41 bis, il 416, l'ergastolo, i pentiti, le intercettazioni, questo avviene. E guardate, queste sono sentenze. Lei, senatrice, buongiorno, è un avvocato come me, lo sa benissimo nella sentenza dell'Utri che cosa c'è scritto. Nel fondatore di Forza Italia c'è scritto benissimo che cosa si stava dicendo. E voi avete il coraggio di parlare, di farci la lezione. Ma perché? Perché questa vostra ritrovata, spirito di indignazione, non la rivolgete rispetto a quello che è accaduto, non ai provvedimenti che vanno in un'unica direzione, perché Di Matteo e Bonafede stanno dalla stessa parte. Ed è stato detto chiaramente, stanno della stessa parte, potranno subentrare delle incomprensioni, ma stanno facendo andare avanti il Paese nella lotta che li ha contraddistinti. E tutto, anche il detrattore più accanito del Ministro Bonafede può dire di tutto, ma non che non ci sia stata una lotta alla mafia. Il Ministro l'ha spiegato punto per punto. E tra l'altro, oggi ho anche il piacere di dire che è stato torneranno in carcere, e questo smentisce tutte le vostre ricostruzioni, Cataldo, Franco Cataldo, che è stato condannato all'Ergastolo per concorso nel sequestro di Giuseppe Di Matteo come è tornato in carcere Bonura. Questi sono i fatti, non sono ghiacchiere. Questi sono i fatti, questi sono i decreti che sono stati firmati. Poi tra l'altro si accusa il Ministro Bonafede. Io non so se qualcuno di voi ha letto dei firmatari veramente queste mozioni. Nella mozione presentata dalla senatrice Bonino si dipinge il Ministro come colui che quale ha attuato una manomissione dell'imparzialità della giustizia. Una manomissione dell'imparzialità della giustizia. Ci troviamo dinanzi a un dittatore, neanche a un Ministro della Repubblica, perché solo un dittatore può sospendere questo. E non delle leggi che sono state, ve lo ricordo, perché siamo seri. Se chi fa queste leggi manomette, come si dice, l'imparzialità della giustizia, il Presidente della Repubblica non le avrebbe promulgate queste leggi. E quindi voi state dicendo anche al Presidente della Repubblica, che ha una funzione importantissima, e state dicendo che è complice in questo ritratto che avete fatto. I principi della civiltà giuridica. I principi della civiltà giuridica. Colui che sta agevolando la gogna mediatica. Lui che sta agevolando la gogna mediatica. Lui che è stato messo alla gogna mediatica. Bisogna avere un senso delle cose, anche negli attacchi. Bisogna essere appropriati. Bisogna essere sul pezzo. Non si può andare così, in maniera così strumentale, perché per colpire, questo è il secondo punto politico, il Governo. Perché questa strumentalità va letta solo perché questo è un attacco a tutto il Governo, che compattamente sta qui e vi risponde. Risponde con la propria presenza, con l'accoraggio del proprio operato. Si è tentato, si è tentato, attraverso una dimostrazione questa, che durante la questione della mozione del Sfugio del Ministro Bonafete si è parlato dell'economia, della finanza, di tutto quello che si sta facendo, che il Governo non ha fatto, che dovrebbe fare. È evidente quello che ci sta dietro. È chi trova uniti, in maniera trasversale, pezzi di quest'Aula che vorrebbero buttare giù questo Governo. Ma questo Governo butteranno giù i cittadini? Quando e come diranno? Non lo butterete voi giù. È chiaro. E poi le elezioni non si possono sentire. Se avete ritrovato questo spirito di legalità e di opportunità, si dice i sospetti e anche le persone più pulite non devono avere l'ombra del sospetto, fate dimettere chi ha avuto una richiesta di arresto dalla Commissione antimafia. Fate questo gesto, abbiate il coraggio, abbiate il coraggio. Perché io dico, tra voi ci sarà qualcuno che sente questa questione, che la sa portare avanti, che può dire sì, è bene che si dimettano. Perché io non scendo sul personale, ma questo è un aspetto politico. È un aspetto politico, nella Commissione antimafia. È una cosa gravissima. E su questo neanche una parola. Neanche una parola, perché vi trincerate al garantismo. E ha detto bene la senatrice Unterberger, voi che siete sempre stati fanatismo giudiziario e quant'altro, adesso ricostruite la vicenda, come vi pare, dopo aver avversato Di Matteo in tutti i modi, in ogni momento adesso, adesso invece vi avventurate nel definire quello che avrebbe detto al Ministro Bonafede. Questo, colleghi, è disonestà intellettuale e politica. E il Paese lo deve sapere. Deve sapere chi sta parlando, deve sapere chi si deve difendere e deve sapere come andrà avanti questa storia. E noi faremo di tutto, Ministro, per darle sostegno, per far sì che le numerose leggi, perché vedete, parleranno le leggi. Questo è vero. Tanto quest'Aula farà questa giornata, c'è stato questo dibattito, ma le leggi rimarranno. Salvo che qualcuno, come è già accaduto, non tenterà di ricancellare come avete fatto con il finanziamento dei partiti. E anche la Lega, la Lega, ha il coraggio di parlare anche la Lega. Dette spiegazioni sui 49 milioni di euro che i cittadini italiani vogliono sapere. Date delle spiegazioni sull'emendamento preparata. Date delle spiegazioni a come avete condotto questi governi con forza Italia quando avete abolito e cercato di abolire tutte le leggi che cercavano disperatamente i magistrati antimafia di portare avanti. Avete fatto un bel connubio, una grande alleanza. Su questo però non dite una parola. Senatore Salvini, lei non dice nulla su questo. Questa è la realtà. La realtà è solo unica. Che il Ministro Bonafede ha il diritto, se non altro, di essere rispettato e queste illazioni non fanno solo male a un Ministro, fanno male a un Paese, a tutti coloro i quali si vedono rappresentati in questo Governo. Grazie.